siamo anche ora siamo mezzanotte e mezza sono a piedi motelino non parte la colpa è mia che devo portarlo a far riparare però boh un risultato di questa città a me piace purtroppo sono a piedi capita succede sento i botti però la gente festeggia e ne sono felice lo stesso anche se me la faccio a piedi boom è un diritto a dare da mangiare a tutti gli italiani tutte le le persone è un diritto a festeggiare il nuovo inizio dell'anno mezzanotte e mezza io la faccio così a me ti succede capita non è colpa di nessuno è colpa mia che devo portarlo via a riparare prima motorino boh metterò le fuoche fatto che sono riuscito a fare perché è circa da un'ora che non sono senza motorino grazie arrivederci